Ciao amici di Radio Alla, benvenuti in questa quarta puntata dedicata alle manifestazioni in Trentino. Questa volta vedremo le annate dal 2010 al 2006 e vedremo alcune manifestazioni che purtroppo sono scomparse, che non ci sono più, quindi un bel ricordo storico, ma anche alcuni concerti di grossi big della musica italiana. Partiamo subito. Vi do sto calmato iniziale con alcuni degli eventi che presenterò, come il rodeo musicale di Avio, il festival delle colioni di Andalo, che purtroppo non c'è più, i concerti di Radio Italia e solo musica italiana a Trento, anche questi purtroppo non li abbiamo più fatti, e un big dalla città di Velluto, Elio di Elio Restore Tese. 2010, andiamo a gennaio, con il rodeo comico musicale a Davio, una bella manifestazione sul format tipo la corrida, diciamo, in cui ci sono dei cantanti, dei ballerini, anche degli intermezzi comici. e tra l'altro c'è, per ogni decisione c'è stato questi bei fondali, questo in particolare dedicato a Grease, il film con John Travolta e Oliver Newton-John, vedete che bel fondale. Questo nel 2008 dedicato a Venezia, a città di Venezia, vedete anche la gondola, vedete che splendidi colori. e questo nel 2009 dedicato alla preistoria con i dinosauri. E tutti questi splendidi quadri giganti, diciamo, sono stati realizzati dalla Beatrice Alense e Cristina Tita, che vedete qua premiata con un bel pazzolo di fiori. E' presentata da Francesca Prone, presentatrice del rodeo, oltre che una collaboratrice di Radioala. Sempre Francesca, con dietro i simpatici Rusteghi, un gruppo comico che faceva delle divertenti scenette tra un'esimizione e l'altra. E qua, sempre in allegria, con le fiese armoniche, in particolare con quella di Marco Zaffei. E qua, vedete che sul palco del rodeo è stata presentata anche mia sorella Eugenia, che ha cantato una bella canzone, cover Time After Time, di Cyndi Lauper, gran successo degli anni Ottanta. Adesso andiamo in Lassinia, Sega di Ala, nel giugno 2010, perché c'è stato un concerto di Giovanni Baglioni, che è proprio il figlio del famoso cantatore Claudio Baglioni. Però a differenza sua, non canta, ma suona solo la chitarra, quindi faceva un concerto interamente strumentale. Ecco qua, la tantissima gente a corsa. E qua vedete che il suo primo piano è veramente molto simile al padre, che tra l'altro l'ho ospitato in alcuni concerti, con una specie del guest. Ora andiamo a Mori, dove in ottobre e in attunno si svolge la Ganttega Tunale, con l'esposizione di trattori, tutti i macchinari per l'agricoltura, e anche gli antichi macchinari, come vedete. Poi gli antichi mestieri, tipografie, esibizioni itineranti. Qua appunto parlavo di antichi mestieri, ecco qua stanno facendo dei cesti a mano. E qua uno scultore che con la motosega realizza varie opere. Qua anche una fattoria, sicuramente per i bambini è sempre un bel vedere, con gli animali tipo il cavallo, i porcellini, i maialini, ma anche gli splendidi animali salvatici che abbiamo nei nostri boschi, prima a far tutti il capriolo. Ora andiamo nella nostra ala, col 2010, in cui è stato uno dei pochi anni in cui non si è svolta la manifestazione alla città di Velluto, ma ci sono stati altri vini interessanti, come questo alla bandiera arancione, 10 del 10 del 10, sfruttando la combinazione di questa data. Vedete quella cornice con i vellutai, ma anche il simpatico Renzo che conosciamo tutti, detto sceriffo, spesso ospite delle nostre mostre fotografiche, anche quelle organizzate da Naturala, con i miei colleghi. qua bancarelle in piazza San Giovanni, gli immancabili vellutai, con anche una telecamera, se non sbaglio per le riprese di Telepace. E qua il palco con l'oreterità, con il loro sindaco dell'anno 2010, che era Luigi Peroni. sempre nel 2010, c'è stato un concerto di una violinista, Saul Echilait, al Teatro Soltore di Ala. Tra l'altro questa musicista si vede talvolta anche come accompagnatrice delle band con i cantati famosi. 2009, andiamo a vedere stavolta direttamente a luglio, con un'edizione città di Velluto veramente ricca, dedicata sia alla danza che alla musica classica che alla musica rock, quindi contentando un po' tutti. qua di Trampolieri e qua Ballerino Clyde, famoso. Qua una donna con una gonna gigantissima, sicuramente molto ad effetto. E qua il famoso Elio di Elio Storetese, che si è cimentato nell'opera Il Babere di Siviglia, manifestando anche delle ottime doti del cantante lirico. E qua, con la loro sindaca di ala Giuliano Tavasoni, viene presentato un gruppo rock degli allegri ragazzi morti, il nome è un po' strano, così come anche il loro look, ma veramente fanno un genere, sono veramente bravi e meritano di essere ascoltati. Sembra posita di concerti, in Valderonchi c'è stato un tributo a Pierangelo Alberto che negli anni 80-90 riempiva sempre il parco giochi dell'handicamp a Ronchi di Ala e qua con con un'orchestrina su Natori Jones, Renato Franchi e special guest figlio di Pierangelo Bertoli, Alberto Bertoli. Eccolo qua, l'ultimo a destra e con un bel pubblico intervenuto. Ecco qua, Alberto Bertoli qua a primo piano e dove in acustico ha rivisitato alcune cover di suo padre tra cui le famose Pure Soffia e Amuso Duro. Sul fondo il bel striscione del comitato di Tè Sociale di Ronchi che ha organizzato questo bel evento. Ora andiamo ad Andalo il Festival delle Aquiloni purtroppo il vento che non c'è più io spesso prendevo ferie proprio per andare quando c'erano le belle giornate e un po' ho nostalgia di questo bel evento vedete che splendidi Aquiloni che ve ne facevano volare nel cielo tutto in mezzo al verde e l'azzurro dei cieli vedete che belle e belle giornate degli Aquiloni più semplici come questo a quelli combinati fino ad arrivare a degli enormi confiabili come questo o anche questo e vedete rispetto a una persona che grandi che sono e addirittura alcune delle vere e proprie opere d'arte qui un Aquilone con dentro un altro Aquilone vedete che veramente opera artistica che veniva fatta volare nel cielo a proposito di manifestazioni che non ci sono più notte italiane nel mondo organizzata da Radio Italia questa veniva svolta a 30 i primi di settembre era una svolta di festival bar giusto per fare un confronto con spettacoli che conosciamo tutti tra l'altro qua viene presentato un cantante ancora oggi famoso Francesco Renga sempre sulla breccia qua Mario Venuti qua Francesco Moro altro cantante ancora oggi a parte giovanissimo anche famoso e qua le due cantoattrici Marina Rey e Pallor Turci assieme Pallor Turci qua e qua Marina Rey bella copiata ora andiamo a Rovereto per l'inaltare di Popoli in dicembre qua con l'accensione dell'albero Piazza Rosmini e qua Natale di Popoli sottotitolo dove Napoli incontra Salisburgo quindi le tradizioni senopuletane che anche quelle la vicina Austria vedete proiezioni sui palazzi immagini sacre o anche quelle del Babbo Natale e all'interno dei negozi balletti così come le esibizioni tirano avanti per la città e qua un pulcinello napoletano che a proposito di Napoli presepi napoletani bellissimi da vedere ora andiamo nel 2008 con il Trento un bel concerto di Rene Grandi accompagnata sia da un gruppo rock che vedete alle spalle che da un gruppo di classico di archi magari per le canzoni più melodiche e comunque alla fine ecco qua vediamo che il ragazzo pubblico ha cantato tutte le sue grosse hit da Bum 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 a in vacanza per una vita a lasciare andare a bruciare la città prima di partire per il lungo viaggio eccetera e qua la vedete simpatica e sorridente come sempre e sempre a proposito di concerti in aprile stavolta i grandissimi Poo in una delle loro ultime date informazioni a quattro elementi infatti come sapete poi il batterista Stefano Torazio che vedete è quadrato lasciò il gruppo rimanero tre e dopo qualche anno fecero di nuovo una riunione a cinque persone includendo anche Riccardo Fogli che aveva lasciato il gruppo negli anni 70 e qua vedete Stefano Torazio che è commosso e saluta il pubblico tra l'altro hanno fatto tutti i loro progressi successi in questa tournée a Trento è riuscito loro ultimo album di cover tra cui la bellissima La Casa del Sole The House of the Rising Sun una delle più belle cover che aveva mai sentito oltre ai loro più grossi successi da pensiero a tanta voglia di lei fino ad arrivare a chi fermerà la musica qua altra manifestazione che non c'è più Roverete in Fiore primavera del 2008 con degli artisti che venivano da tutta Italia e si cimentavano in questa gara per abbellire sia le auto che gli interni di palazzi che anche delle modelle vedete veramente è una bella manifestazione che bello fotografare ora andiamo a Nogaredo nel dintorno di Rovereto questa cittadina il primo di maggio viene svolta la manifestazione del Calendimaggio che si concludeva in bellezza con questo spedacolo pirotecnico vedete delle vera e propria cascate di fuoco che scendono da questo edificio ora andiamo a Rovereto con Rovereto c'è una sorta di little show con il condotto da Ornella Frisinghelli siamo ad ottobre del 2008 qua con l'allenatore della Juventus di allora Massimo Ranieri ecco qua ancora Ranieri tra l'altro Claudio Ranieri è stato allenatore anche di una squadra in Inghilterra il Leicester con cui ha vinto lo scudetto e qui vicino a Paolo Prosio altro sportivo importante qua sempre Rovereto c'è in un'altra piazza con qua vedete inquadrata con Emanuela Vicenta questa atletta famosa qua cimenta che non ballo ora andiamo a Ronchi di Ala qui nel Natale è stato il presepe vivente quindi all'uscita dalla messa si potevano fare queste vie si vedevano queste scene del presepe fino ad arrivare qui nel presso del bar dove c'erano anche delle pecore vedete gli animali con i pastori fino ad arrivare in fondo quella grotta con Maria Giuseppe e il bambinello e poi alla fine si arrivava nel piazzale del parco giochi per prendere un bel panettone con magari una cioccolata calda o un tè e vedete anche la neve tipica del periodo divernale parecchio copiosa ai bordi 2007 carri di carnevale trento con questi splendido carro molto colorato di una banda poi di di alcune navi imbarcazioni qua un carro circense e qua un obelix un asterix con questo enorme masso dietro la schiena e qua dei bei cortei con i bambini e qua sempre a porza di carne andiamo a carnevale e andiamo a vedere quelli di di Bolano con questo splendido drago mangiare i fiuti con dietro l'incenditore è veramente sia bello da vedere che è anche un carro geniale questo poi questo dedicato all'era graciale anche notevole come costruzione retti i dettagli molti animali e questo è bellissimo con i dinosauri tra l'altro vedete leggete scuola media quindi costruito dalle scuole dai bambini agli insegnanti appunto ai genitori è il lavoro che prende dentro tutto l'anno praticamente vedete questa è la parte anteriore e questa è la parte posteriore del carro qui un carro egizio anzi con asterix anche e qui un carro cartoon diciamolo così e questo è il retro spettacolare anche quello e qua tra le maschere un calciatore sembrerebbe un calciatore del Milan della maglia ora andiamo a Trento con le feste vigiliane che si svolgono a fine giugno con una splendida zatterrata sul fiume Adige e poi sempre nell'Adige c'è la tonca praticamente vengono scelti un certo numero di persone che nel corso dell'anno diciamo non si sono comportate bene tra virgolette e ne viene scelta una e gettata dal fiume Adige all'interno di questa gabbia per penitenza qua altro scorcio con il fiume Adige sempre più di notte tra l'altro vedete che splendida illuminazione sia con i colori bianchi che arancioni ora facciamo un salto a Rovereto in agosto con una partita amichevole da Juventus contro la Cina ed è una stata una bella occasione per vedere i big dal video come Gianluigi Buffon tutt'ora portiere della Juventus il allenatore Claudio Ranieri che abbiamo visto anche prima qua i giocatori durante l'allenamento e qua si sta ascoltando anche il mitico e famosissimo Alex Del Piero sicuramente il calciatore amato da tutti Giuventini e non e qua altra star della Juve di qui tempi Pavel Nedved ora sempre a Trento con il concerto di Radio Talem ma questa volta è Galà dei Ricordi cioè incentrato principalmente sugli anni 60 70 80 qua vedete Mal il famoso cantante di Furia Cavallo del West poi altro cantante questo degli anni 80 Gazebo quello che cantò Elag Chopin e Masterpiece due grandissimi successi degli anni 80 e qua infine in questo splendido gioco di Luci i Cugini di Campania che sicuramente famosi con il loro hit anni 70 anima mia e sempre posa di concerti a Trento c'è stato anche Max Pezzalli che ha riproposto oltre ai suoi brani solisti anche quelli chiaramente degli 883 vedete con una bella band a supporto e con la scenografia che ricorda un po' anche la canzone degli 883 Norse Dove Stest con tutte queste indicazioni ovviamente ha cantato anche quella assieme a Siamo Mumito Come Mai tutti i più ben successi degli 883 fino alle sue ultime della solista 2006 adesso stiamo arrivando alla fine concerto di Massimo Bubula ad Abbio quindi vedete che in una città piccola ogni tanto viene qualche big e Massimo Bubula in particolare ha collaborato con Fabrizio D'Andres su moltissime canzoni in particolare negli album l'Indiano e Rimini e tra l'altro è un cantatore veronese quindi vicino al nostro Trantino eccolo qua e infine per ultimo andiamo dalla città di Velluto con dei carri dedicati a Mozart nel lontano luglio 2006 infatti la mia qualità delle foto qua ne sta risentendo perché era una delle prime compatine con le macchine compatte piccoline che avevo quindi magari su riscatti notturni ne risente un po' però sono delle documentazioni sempre interessanti da rivedere qua un carri dedicato alle nostre di Figaro qua il Don Giovanni tutte opere di Mozart e qua il fratto magico tra l'altro questi carri partivano dalla zona dove c'è più o meno caffè e commercio fino ad arrivare a piazza San Giovanni quindi vicino anche al municipio dove praticamente si aprivano e facevano dei bellissimi fuochi d'artificio effetti pirotecnici mi sono anche pentito di non averli filmati ma allora non avevo attrezzatura ma poi mi sono rifatto con gli anni ecco sono arrivati al termine ringraziamo come sempre i fantastici quattro colonne di Radio Ala i rifondatori Lorenzo Fedrizi e Paolo Patanè ma anche il tecnico Matteo Cervarotti e l'ha detto alla programmazione DJ Liga Rigo tra l'altro con le loro trasmissioni che potete trovare sul balinsesto di Radio Ala grazie per l'ascolto e ci vediamo all'ultima puntata grazie a tutti